Sesta stagione Sesta stagione E basta mo Che possiamo continuare a stare per le 10.000 stagioni Ma fate vla una pausa Che poi ci sono quelli come me Che si sacrificano per vedere tutto Solo per dire di essere sul serio Rimasti fino alla fine Ma se sta fine non arriva Che possiamo far vecchie qua Insomma tutto comincia con Giafar Che bullizza di brutto aladi Perché non si è dimostrato il salvatore Che tutti speravano No 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 Aspettate un momento Non era Emma la salvatrice? Emma? Quali salvatore ci sono? Vabbè E questo Giafar non dovrebbe essere Nello spin off di Once Upon a Time in Wonderland Questa cosa come me la spiegano Oltre al fatto che durante il tragetto Si è pure fatto una plastica facciale Vabbè Meglio iniziare con Storybrooke Allora Arriva un dirigibile Saranno finalmente gli alieni Che si rivolgono portare via tutti? Ma che? Sono degli immigrati clandestini Che vengono dal mondo delle storie mai raccontate Atterrati alla chitichella in città Perché non sia mai che arrivi Trump E costruisca uno dei suoi famosi muri Qui però c'è sotto Mr. Hyde Così mentre gli altri vanno a fare gli onori di casa Emma e Regina con l'aiuto del dottor Jackie Riescono ad imprigionare Mr. Hyde Ok fine Sì magari Perché così da un giorno all'altro Ad Emma cominciano a venire crisi epilettiche Delle convulsioni random Che le daranno delle visioni nella quale Durante una battaglia Lei viene trapassata da parte a parte Con una spada da un tizio boh Per avere certezze Emma va a trovare storacolo Che si rivela utile e consolatorio Quanto tu Mentre cerchi dei sintomi di malattie su internet Pensi di fare una genialata Ma in realtà poi credi di avere tutte le malattie di questo mondo Infatti questa le dice che queste visioni Non sono altro che previsioni del futuro che l'aspetta E qui grattiamoci tutti Ma come avessimo visto Jessica Fletcher Ma tra i clandestini delle storie mai raccontate Vi è anche un tizio sospetto Che decide voler incontrare Mary Margaret e David Cod'è sta persona? E Tenetevi forte Il conte di Monte Cristo Sì signori Abbiamo pure il conte di Monte Cristo Siamo passati dalle favole disneyane Alla mitologia greca Alla letteratura classica Ora mi aspetto di vedere i tre moschettieri Madame Bovary e Guglielmo Tell A quanto pare nella storia del conte Non c'era scritto che vi era anche una certa regina cattiva Che gli aveva affidato il compito di uccidere Biancaneve e James Non che lui abbia tanta voglia di ucciderli effettivamente Ma Miss Regina Cattiva C'è il suo cuore e lo costringe ad affrontare i due eroi Ma a salvarli ci sarà proprio Regina Quella buona Che lo ucciderà dandogli anche la pace Andiamo avanti un po' più veloci E saltiamo la puntata su Cenerentola Che ti vogliono far credere che sia tornata dall'ombra delle comparse Ma tempo zero e già viene dimenticata brutalmente Quindi andiamo da Gold Che porta Belle al Tempio di Morfeo Con la speranza di risvegliarla Da quando sto posto c'è una chiesa un tempio o qualcosa del genere Boh Fatto sta che Gold entra nei sogni della donna Che per fortuna fino a mo' non sta sognando nulla di sconcio E lì lui cerca di farla rinnamorare come ai vecchi tempi Ma ecco che arriva un ragazzetto dalla faccia da schiaffi Che non è altro che il loro figlio cresciuto Che giustamente essendo non ancora nato Condivide i sogni della mamma dal pancione Francamente non mi spiego come abbia avuto sto sviluppo improvviso Ma questo è uno dei tanti misteri della fede Che non troveranno mai risposta Essendo dunque il rapporto tra madre e figlio vero amore Il ragazzo senza nome le dà un bacetto sulla fronte E la risveglia Dicendole però di stare lontana da Gold Perché è un uomo brutto e cattivo Che le ha sempre mentito e che lo farà ancora E aggiungiamo nei misteri della fede Anche il fatto di come sto ragazzo sappia che il padre sia un bugiardo irrecuperabile Fatto sta che Belle essendo rimasta una senza tetto Viene accolta da un cino sulla Jolly Roger Che tanto si sta per trasferire da Emma Ma è quindi col cavolo che mi batte un'altra ship tra questi e due Ma ecco chi ha la porta di Belle Porta, oddio, alla rampa Si presenta Jekyll che cerca di fugio Poiché mentre stava preparando un siero per sconfiggere definitivamente Mr. Hyde Quest'ultimo era fuggito di prigione e gli aveva rubato e distrutto tutto Belle, che sarà pure una comparsa inutile ma è pur sempre intelligente Riesce a capire che effettivamente Jekyll non è così buono come dice di essere E cerca di chiedere aiuto Tuttavia l'uomo la ferma e tenta di ucciderla così da potersi vendicare del signore oscuro Gold, tuttavia, è rimasto fuori dalla nave e non può far niente per aiutare Belle Perché Hyde lo controlla con il suo pugnale e fregatogli prima Volendogli dimostrare che il cattivo della situazione non è lui ma è l'altro Si ok però fagli salvare la moglie dai Peccato povera la moglie che ha fatto lei Sta cosa vi sta un pochino confondendo le idee e vi posso anche capire In pratica il cattivo non è poi così cattivo e il buono è più cattivo del cattivo Ma prima ancora di poterci capire qualcosa ecco che arriva Killian che culo culo ferma in tempo Jekyll uccidendolo Tuttavia anche Mr. Hyde muore perché se uccidi l'originale uccidi anche la sua controparte Ma ora tutti si chiedono come mai Jekyll si voleva vendicare così tanto di tremotino Andiamo nella storia del dottore che veniva abolizzato da tutti per le sue idee strampalate Ed ecco che arrivò il signore oscuro che lo aiutò a completare il suo siero che riesce a dividere un uomo a metà Facendo uscire la parte più oscura di sé Il tutto sembrava procedere Il dottor Jekyll si trasformava in Mr. Hyde che più forte, ganso e spregiudicato come non mai Riuscì a far ammettere la sua controparte Jekyll come membro dell'accademia scientifica attraverso il ricatto Inoltre Jekyll era anche innamorato di questa Mary e Hyde faceva la consulente matrimoniale Ma caso volle che i due si innamorassero e passarono la notte assieme Ma quando Mary si risvegliò nel letto di Jekyll si spaventò In effetti non è tutta sta bellezza E Jekyll, furioso, la spinse accidentalmente dalla finestra uccidendola Prima che la polizia potesse intervenire Il dottore si trasformò in Mr. Hyde per fuggire grazie alla forza fisica maggiore E in modo tale che la colpa fosse attribuita a lui Insomma, Jekyll era il cattivo della situazione E benché io non abbia mai letto il libro Non credo proprio che le cose siano andate in questo modo E noi che pensavamo chissà quanto potesse durare Mr. Hyde Puntata 3 e già questo mi muore Che cattivo inutile Ma se se ne va un personaggio Ecco che ne compare un altro Dunque arriva Jasmine Che, dal mondo delle storie mai raccontate con furore Cerca il caro Aladin Che si dice essere il salvatore della sua terra Agrabah Infatti in passato Aladin aveva aiutato la principessa a sconfiggere Jafar Ma dopo che scoprì che essere un salvatore ti porta tanta merda Destinandoti alla morte Decise bene di usare delle cesoie magiche Che, manco con un cordone umbilicale Tagliarono il filo del suo destino Ora Aladin è un ladruncolo comune E si sente in colpa per aver lasciato Agrabah nella merda più puzzolente Essendo Jafar ancora in vita E vabbè, potevi pensarci prima Non che Jasmine ne avesse fatta una migliore Infatti, mentre il sultano cercò di sistemare la figlia con qualche principe di turno Ecco che Jafar arrivò A quanto pare sessualmente frustrato E le disse che se non lo avesse sposato entro il tramonto Lui avrebbe distrutto tutta Agrabah Sapendo che non le vada mai una giusta La ragazza vagò per la città Ritrovandosi Magi magia Ariel Sì, sì E io che pensavo che fossimo già andati oltre Ma a trovare una sirena nel deserto, proprio Comunque Jasmine era convinta che Eric potesse avere un esercito per sconfiggere Jafar E quindi aiutò la sirena a cercarlo Ma a chiedere l'esercito a uno dei tuoi tanti pretendenti O tutti quanti insieme, no, eh? Era troppo semplice, vabbè E infatti Eric non c'è Ormai al tramonto Jasmine si vede costretta ad accettare la proposta, se così vogliamo chiamarla, di matrimonio Donando pure all'anello reale in omaggio perché sì Ma a Jafar, a dirla tutta, non interessava granché sposarsi la principessa Ma voleva solo la pietra incastonata nell'anello reale Che conteneva una magia di protezione della città Così ora che ha la pietra lo stregone fa praticamente sparire la città sotto gli occhi di Jasmine Oh, effettivamente Aladdin e Jasmine sono una vera coppia catastrofica Ma la cosa più importante ora sono le cesoie Che la regina cattiva recupera facendo un accordo con Gold Lui avrà le cesoie per tagliare il destino del figlio non ancora nato In modo tale che non lo odi per sempre Se lui le aiuterà ad avere il cuore di Biancaneve E quindi la regina cattiva minaccia Mary Margaret e David Dicendo di consegnarle il cuore che condividono Altrimenti lei avrebbe distrutto la città con le acque delle anime perdute Dell'azienda dell'Oltretombe Co, gentilmente offerta a buon prezzo dal signor Gold È un prodotto illustrativo non usato sotto i bambini di 12 anni I due coniugi provano in tutti i modi di salvare la situazione Ma alla fine decidono di affrontare il loro destino Consegnando il cuore alla regina cattiva Lei lo prende e... E lo rimette a posto Dopo tutta sta serie di cazzi Durata sei stagioni, vendette lungherrime e sortileggi spronati da lei stessa Quando finalmente a ciò che voleva Sembra quasi che non si ricordi neanche più perché cosa era incazzata Regi, ma sai che sta di nuovo? Ma vaffanculo va Comunque, la donna dice che vuole farli soffrire Separandoli per sempre Così lancia un incantesimo del sonno sul cuore Appena lo rimette a posto Mary Margaret si addormenta E David furbamente Pensa di baciarla per spezzare l'incantesimo Mary Margaret si risveglia e... Boom! Crolla il sonno David Infatti, condividendo il cuore Se uno si sveglia, l'altro si addormenta Una trollata pazzesca, insomma Ma la regina cattiva ne ha fatto un'altra difurbata Dopo aver avuto una piccola discussione con Gold Fa accelerare la gravidanza di Belle Mettendole una pozione nella camomilla In modo che tutti diano la colpa all'oscuro Ed ecco che Belle partorisce il piccolo Gideon Che nome di merda Ma non volendo che venga preso da Gold Lo affida a Turchina Che lo porta via da Storybrooke No, 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 non darlo a Turchina No, l'ha dato a Turchina Quindi tra 3, 2, 1 Ok, Gideon scompare Brava, brava, brava Quindi, mentre quei due si disperrano alla ricerca del figlioletto Aladdin e Jasmine trovano una lampada magica Ma siccome non c'era budget per un genio La residenza è vuota E Aladdin stesso decide di diventare uno di loro Per aiutare l'amata a trovare Agraba Ma coso? Viene rapito dalla regina cattiva Che usa un desiderio per mandare Emma in un mondo alternativo Dove lei non è mai stata la salvatrice Regina, quella buona Decide di seguire Emma in questo posto Dove Emma è una principessa Disney Nel vero senso della parola E gli Charmings sono ben che invecchiati La cosa diviene non poco disturbante Per i delicati occhi e orecchi di Regina Quindi cerca di far tornare Emma in sé Schiaffeggiandola più non posso Ok, non la schiaffeggia letteralmente Però sarebbe stato bello da vedere Ma mentre stanno tornando a casa Ecco che a Regina si para davanti Robin Hood alternativo Più spregiudicato di quello originale Che non ruba i ricchi per dare ai poveri Ma ruba i ricchi per dare a se stesso Un uomo altruista insomma Il mai una gioia elevato a potenza di Regina Si incrementa ancora di più E decide di portare il juovine con sé Come sostituzione della bambola gonfiabile di prima Ma se il Robin di prima era inutile Ma almeno buono e onesto Questo qui è ancora più inutile Eppure una scassa menghia Cornuta e marziata la povera Regina Tornati a casa Regina ed Emma Fanno in tempo a mandare Jasmine d'Aladin a quel paese I cui problemi fanno da sfondo Ad una storia più incasinata di Beautiful E quindi non ce ne frega nulla Tanto alla fine con il bacio del vero amore I due ritrovano Agrabah e sconfiggono Jafar La cui presenza ti faceva pensare Ad un altro cattivo importante Ma a quanto pare No Che poi che cosa ti muori Che sei già morto nello spin off Boh La coerenza Questa sconosciuta Regina però decide di darne di santa ragione Alla sua parte malvagia Ma proprio all'ultimo momento Si ricorda di essere buona E quindi prende il suo cuore Quello della Regina cattiva Ed equilibria in ugual misura Bontà e oscurità Infine grazie ad Henry l'autore Che a volte è utile a qualcosa Manda lei e Robin Hood Tarocco Nella foresta incantata Per iniziare una nuova vita assieme E mettiamo pure la Regina cattiva Tra gli scarti di cattivi inutili Della stagione Insieme a Jafar e ad Hyde Ma l'ennesima cattiva di stagione È già arrivata da un po' Ma ha aspettato il suo turno Per entrare in scena È pur sempre una donna di classe Infatti ora scopriamo Dove è andato a finire Il caro Gideon In realtà il piccoletto È stato rapito dalla famigerata Fata nera Sta fata cattiva È nota per il suo hobby Di dubbio gusto Di rapire i bambini neonati Questa strana passione morbosa Per i figli degli altri Non finirà mai Ma codesta fata nera Non è una fata nera qualunque Ma bensì La madre biologica di Tremotino Quindi Mentre la minaccia della fata nera Incombe su Storybrooke Manco dieci minuti dopo Il ritorno di Emma e Regina Uncino decide di fregarsene di tutti E chiedere la mano dell'amata Ma siccome nonostante sia pure un pirata Assassino e saccheggiatore È anche tradizionalista E vuole prima chiedere la benedizione a David Ma Eppure non mi ricordo Che per sposarti Mila Tu abbia chiesto benedizione a qualcuno Neanche a quel cornuto del marito Quindi cornificare va bene Ma se il babbo non ti dà la benedizione Non si fa niente Insomma a David in questo momento Non gliene può fregare niente Della figlia dei suoi spasimanti Perché è troppo preso a domandarsi Dopo diecimila puntate Se effettivamente il padre ubriacone Era morto per un incidente Oppure è stato semplicemente ucciso E vada ben vada ben vada ben Fu Killian stesso ad ucciderlo Quest'ultimo Convinto che forse è meglio Stare un tantino zitti Se ne va fischiettando innocentemente Peccato che Emma lo scopra lo stesso È incazzata per una veglia Lo detto subito Si prende una pausa di riflessione da lui Invece Killian si prende una riflessione Dentro il Nautilius Il sottomarino del Capitano Nemo Per ritrovare se stesso Si in Capitano Nemo Quello di cento leghe sotto i mari O qualcosa del genere Ma poi cambia idea E decide di destare Peccato che il sottomarino Parta comunque Sotto un incantesimo oscuro Chi ne avrà mai lanciato Questo incantesimo oscuro È stato proprio Gideon Gideon è arrivato a Storybrooke Già ad urto E pieno di oscurità Infatti il piccoletto Dopo essere stato rapito Dalla fata nera È stato portato nel suo reame Dove il tempo scorre diversamente La donna lo controlla Avendogli rubato il cuore E l'ha mandato a Storybrooke Per uccidere la salvatrice Non peraltro Il tizio incappucciato Nella visione di Emma È proprio Gideon Il ragazzo dunque Portando via un cino Dà l'impressione ad Emma Di essere stata abbandonata E quindi lei Se ne va ad ubriacarsi Con la madre E l'amica nemica Con Emma che abbassa la guardia Gideon cerca di ucciderla E di rubarne i poteri Per fare un potenziamento Di livello 5 Alla spada Dattagli dalla fata nera Difatti la donna è agli arresti domiciliari Nel suo regno Per non si sa quale motivo E solo quella spada Può aprire un portale Per farla evadere E venire a Storybrooke Di per sé L'incantesimo non funziona Ma Kulokur Riesce ad aprire Un piccolo millimetro di spiraio Dal quale la donna Riesce a scattaiolare In tutto sto trallazzo Mary Margaret e David Si svegliano definitivamente Dall'incantesimo del sonno Ed Emma riesce ad aprire Un portal Per raggiungere Killian Approdato sull'isola Che non c'è Ed ecco che finalmente Noi e Gold scopriamo Chi è veramente la fata nera E perché ha abbandonato il figlio La donna era una semplice donna Di nome Fiona Che Zamzumzam Dalla luce Il piccolo tremotino Lei e il marito Sono felici come non mai Ma ecco che a rovinare I momenti di gloria Arrivano loro Le famigerate Fate E noi sappiamo Che in questa serie Essere una fata Porta in giro Solo tanta ma tanta merda Difatti arrivano da lei Quella mezza dittatrice Di Turchina E Giglio Tigrato Che in teoria doveva essere Un'indiana Nel cartone di Peter Pan Ma qui è una fata Le fatucce Dicono alla neomamma Senza neanche darle il tempo Di Non so Riprendersi Farle passare due mesi Due secondi Boh Che il figlio Sarà destinato ad essere Il salvatore E che dovrà morire Male male malissimo Nella battaglia finale Contro un essere oscuro Che ha la voglia Forma di mezzaluna Sul braccio In pratica Doveva essere Tremotino sterso Il salvatore E non quell'impunita di Emma Fiona così Decide di usare Un incantesimo E trasformarsi In una fata Per trovare Codesta Entità malvagia E dagli due buffetti Per non farli Bullizzare il figlio Ma facendo tutto questo Cede all'oscurità Gli compara una mezzaluna Sul braccio E diventa la fata nera Oh Bel modo di proteggere Il tuo figlio Ma ecco Che fanno il loro ingresso Le famose cesoie magiche Che Fiona usa Per recidere il destino Del figlio Cosicché lui non diventi mai Un salvatore E il mondo intero Le chiedono le fate E lei con eleganza Risponde Sti cazzi il mondo intero Turchina così Decide di esiliarla In un altro riame Mettendola agli arresti domiciliari Dopo questo Possiamo dedicarci Alla puntata clou Di questa stagione Una puntata Dal quale la Disney Sarebbe fiera E alla quale I autori hanno voluto Dare un senso Con tanta Troppa fantasia Ma che in realtà Non ha La puntata musical Sì I personaggi Cantano Il tutto perché In passato Bianca Nera Aveva espresso Il desiderio Di poter dare Un lieto fine Alla figlioletta Emma Il giorno dopo Quelli iniziano A cantare Random E i nostri eroi cercano Di sconfiggere La regina cattiva A suon di note Hanno Iniziato a cantare Signore Se pensate che la cosa In sé Non abbia il minimo senso Beh Non ha il minimo senso Effettivamente Il piano di per sé Fallisce Ma non prima Di aver fatto fare Qualche stacchetto In lap dance A tutti Ma secondo Turchina Il potere della musica Di tutta la foresta incantata Aiuterà Emma Nella sua battaglia finale Compagnandola come tipo La colonna sonora Della sua vita Ovviamente tutte queste cose I genitori non potevano dirlo Prima ad Emma Che dopo 28 anni Si ricorda di saper cantare E spara un paio di acuti Sulla fata nera Che si ritira Per non diventare sorda Potremmo quasi dire Che tutto finisce bene Visto che vediamo Celebrate le nozze Tra Uncino ed Emma Con il grillo parlante Che fa da pastore Visto che non esistono Preti in questa città Però Resta sempre Quel quasi di prima Visto che non abbiamo Considerato La vera protagonista Di tutta la storia Di Once upon a time Da quando è iniziata La nube viola Delle mille maledizioni Che ti lanciano Ad ogni stagione Mica proprio alla fine Vogliamo mettere da parte Questa irremovibile tradizione Eh Quindi la fata nera Rilancia con una delle sue Portandoci in una dimensione Parallela di Storybrooke Tipo prima stagione Dove nessuno Sa di essere nessuno Ma con la differenza Che il sindaco E la madre adottiva di Henry Non è regina Ma la stessa Fiona Oh Ed Emma Sta in un manicomio Giusto per Chiarirci L'unico a ricordare tutto È ovviamente Henry Che così come Scompare dalle scene Così qualche volta Riappare Si rende utile È incostante Sto ragazzo Il ragazzo Fa di tutto Per aiutare Emma A credere di nuovo Nonostante la cosa L'abbia portata A considerarsi Una malata di mente Tutti gli altri rimasti Si ritrovano Nel proprio reame Nella foresta incantata Verendo però Che tutto il regno Sta venendo inghiottito Dall'oscurità E dal nulla Il tutto perché Emma sta man mano Perdendo il suo credo Ma dobbiamo arrivare Proprio con l'acqua alla gola Prima che Emma Si ricordi di essere La protagonista E facendo tornare Tutti a Storybrooke Con i propri ricordi Arriva la conclusione Che l'oscurità Non può battere la luce Ma solo la luce Può battere altra luce Traduzione? Boh Non è cambiato nulla Emma deve comunque Affrontare Gideon Nella battaglia finale Ma con sgomento Di tutti quanti Cold finalmente capisce Dopo tentativi falliti Di diventare un eroe Che bastava semplicemente Fare una cosa giusta E uccide sua madre La fata nera Sono così fiera di te Gli ci sono volute Sei stagioni Ma alla fine Ci è arrivato Dai Inoltre incrementando Il nostro stupore L'uomo si dirige Con bella a cercare Il cuore di Gideon Vincendo la sua parte oscura Definitivamente Tutto sto atto Di buonismo improvviso Però Non riesce a fermare Gideon Che trapassa Emma Ma al posto del sangue La donna perde luce Così illuminandosi Di immenso Luce e luce Si sono annullati Harris dà Emma Con il bacio del vero amore E Gideon Retrocede a Neonato Dando un nuovo inizio A lui Bell e Gold Insomma Alla fine Che è successo? Boh Un casino Un immenso casino Che si sono ricordati Di buttare All'ultima puntata Facendoci penare Come matti Al pensiero Di quanti cattivi Ci dovevano essere Tra la regina cattiva Hyde Jafar e la fata nera Ma lasciandoci Con un punto interrogativo Galleggiante in testa Fino a stavalanga di informazioni Buttate ora Quindi alla fine Tutti ricominciano Le loro vite da zero Andandosi a fare Il cenone di Natale Dal granny In perfetto stile Ultima cena Bah Direi che abbiamo finito Ah no? Non abbiamo finito? Vabbè Ed ecco quindi che Non si sa Quanto tempo dopo Sta bambina di nome Lucy Arriva a Seattle Da sola Nell'appartamento Di quest'uomo Che è Magi Magia È proprio Harry D'adulto Quindi Quella stessa sera Senza di niente Si presenta a casa sua Sta ragazzina Che gli dice Ciao bello Sei una cosa Io so tua figlia Quindi adesso mi segui In una città No no aspetta Un momento Un momento Non ditemi che dopo Sei stagioni di puro sbattimento Mi fanno tutta sta Tiritela da capo Con quella che è La figlia del figlio Della figlia di Biancaneve Eh E c'è ma sta taffa Fingammo Basta Gimenovo 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 Gimenovo